Buonasera Siamo arrivati solo a divisi del novecento Adesso ci sarebbe la chiusura di una casa fortificata Però siamo anche fuori E' allargato il distritto E ricorda che da lì ha dovuto salire a piedi Anziché sul sommato Facciamo un po' limpido il sentito Quello pozzoletto che è quello sul quale è salito anche il papasolo Da qui c'è la vista sulla valle Praticamente si vede il Mar Morto E qui sotto Gerico Anche qui sotto Lì sarebbe Gerusalemme Di notte si vedono le luci Da qui Più in giù sarebbe Betlemme E molto in questa zona Ma nessuno sa dove esaltà Noi andiamo a pensare Per cui c'è una grande chiesa Forse la più grande Giordano Con un atrio In secolo Circondato Presi un po' quasi tutti dall'Italia Però c'erano anche tedeschi europei Dove vengono e fanno le loro proposte Però padre Michele vuoi pensare bene Di mettere insieme il team degli amici del Mello Che non erano altro che architetti Ingegneri Della basilica E che sovrapposti Anche nella semplicità delle figure giovani Però volevo raccontarvi invece una piccola storia Legata al restauro Il restauro che dobbiamo fare Come vedete una struttura nuova Che si boccia sulle linee Sono stati trovati solo elementi riusati In questa tomba E nel fonte battesimale Come ha detto Franco Prima c'è anche un elemento in alla vasta La chiesa prima L'aveva solo fino a qua Questa è un aggiunto Grazie Ecco Grazie Molto bene Grazie Qui ci sono molte cisterne Perché sul nebo non c'è altro E' il cisternato degli villaggi Sì 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 Allora Può beh Grazie Abbiamo riportato anche una frase del padre Michele Piccirillo Ecco l'autore che diceva da una montagna dalla quale Mosè gettò uno sguardo di speranza sul futuro anch'io provo a guardare avanti vedendo tanti giovani vivere in pace in un mondo che non ne può più di guerre e di odio sarà certamente reale Franco vieni mi dispiace ma sono sempre io grazie un uomo è veramente grazie grazie